Possiamo omogenizzare C'è la mushroom, mushroom, mushroom Ma sta fermo, squid, 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 squid 00 No, è meno che c'è il TV Porca miseria What the fuck Comunque, bello a tutti ragazzi, sono Gisius E oggi siamo in compagnia di Squid 00, ciao a tutti ragazzi Ok, perfetto Smetti di colpire che madonna ti meno tenedotanti di quelle che, porca miseria Smetti, smetti anche di laggare Hai detto dove, hai detto dove siamo Ah no, ok Oggi siamo su una CTM, si chiama New Super Mario Galaxy, giusto? Sì, almeno penso, c'è scritto qua Super Mario Galaxy, c'è scritto lì dove? Qua, nelle regole, dove c'è il ghiaccio Sono deficiente Super Mario Galaxy, Minecraft style Rules, one goal To play, map block Blah, 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 ma chi ha voglia di leggere Ok, ci sono 16 blocchi d'oro Ok, ci sono 16 blocchi d'oro Vabbè, ok, allora qua c'è un fantastico command block Eh, teleport Command block È qua Ma si la spacco bisogna fare i blocchi d'oro, 16 sono giusto, sulla cima dell'osservatorio questo coso qua, aspettiamo un attimo. Sì, io sto un attimo girando intorno. Sì, anch'io. Comunque, c'è un maiale là, è un pollo, bene. Comunque, ma Dio che figata, che figata, sta mappa. Comunque, stavo dicendo, questa serie la farò con Squid00 che è un mio carissimo amico, di cui abbiamo sponsorizzato il canale un po' di tempo fa nel primo o secondo vlog, adesso non ricordo purtroppo. Comunque, gli episodi usciranno alternati tra il mio e il suo canale, cioè tra quello di me, Alex e il suo, e niente, quindi basta. Andiamo sull'osservatorio? Sì, andiamo. Ma perché c'è un fascio luminoso della morte? È il Bitcoin. È il... sì, però, ok. Sì, in priori che viene da giù, se ci tuffiamo moriamo. Ah, ok. Teleport back blue. Sì, tipo, teletrasporto giù. Ma qua c'è ancora qualcosa in cima, però. Dove, dove? Eh, vedi che non è finito l'osservatorio. Già. Dici che ci trollano? Che c'è qualcosa. Molto probabilmente, sì. Come si fa a salire lì sopra, porco, capitano? Io provo a tornare giù. Ah, dobbiamo riempire questa cosa qua di blocchi d'oro, ok, capito? Che figata scusa. Bisogna noi abbiamo il monumento visibile. Sì, abbiamo un monumento, wow. Visibile, intendi. Visibile, sì. Visibile. Cioè, finito. Non correre, porca miseria. Sto guardando. Mi scende la fame, ciao. Ma... Mi sa che moriremo presto qua. Sì. Qua ci sono delle ceste, comunque. È un ender chest. Oh. Can store unit items. Sì, non c'è niente. Eh, certo. No, ci sono due ender chest, wow. Sono molto utili perché nella ender chest non c'è niente, ovviamente. No, ma ci sono due ender chest nella cassa. Sì, sì, però se tu le metti a terra non c'è niente dentro, lo stesso. Eh, lo so che non c'è niente dentro. Ci seguiranno probabilmente nei dungeon. Io ti ho dato deposito i ligotti d'oro perché conoscendomi... Io provo a entrare qua dentro, un ligotto d'oro... Davvero? E anche un quadro. Cioè, li ho già presi. Davvero? Te lo rimetto qua così non puoi vedere, guarda. Ma che che hai fatto ad entrare qua dentro? Vieni, c'è qua la scaletta. Vieni, te l'ho rimesso qua, guarda. Ah, c'è un quadro con un blocco... Hai messo il blocco d'oro con il quadro? Perché non riesco a sapere? Sì, sì, c'era, era su. Era su, perfetto, va bene. Va bene, ok. Io direi l'oro di metterlo nella ender. Di metterlo subito. Ah, nella ender? Ok. Sì. Ender Pearl, throw one over the nearly island. Ma tu sei impazzito, sei? Oddio, guarda, Mario, 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 Luigi, Mario, ci sono tutte le tutine. No! Ci sono le armature, sai? Ma che figata! Dai, tu fai Mario, io faccio Luigi. Va bene, faccio Mario, dai. Tanto le perderemo malamente, però... Come si fanno a mettere gli oggetti senza aprire l'inventario? Eh, primi tasto destro. Ah, ok. Le perderemo malamente, davvero? Ma... Proviamoci con F5. F5, oddio. Oddio, che figata! Oddio, sono Mario! Mamma mia, pizzeria! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Uh, due Envil che non possiamo rompere e un ingotto d'oro. Lo lascio tranquillo. No, è un Envil, aspetta, 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 aspetta. Le Envil... Ah, sì, le Zincudini, ok, ho capito. Sì. L'ingotto lo prendo io, ma... È come se lo prendesse anche... Cioè, quando registro io, li prendo io, quando registro Squid 00... Li prendo io, naturalmente. Tranquo, tranquo, tranquo. Mi va il senso. Oddio, no, non lo fare mai più, mi sei passato attraverso, stavo per cadere come un minchione. No, vai prima te. Ok. Via! Fel della Madonna in arrivo! Non mi sono teletrasportato. Tu ti siete teletrasportato? Perché io non mi sono teletrasportato? Non lo so. Forse perché non hai centrato l'isola. Ma centriamo l'isola. Ok. Ce l'abbiamo fatto. Oh, qui c'è la stradina. C'è pure la stradina, wow. Oh mio Dio. Apri la cesta. Puta, oddio. Oddio, allora, ok. È la Madonna. Stavo per dire... Oh, la, oh, oh. No, aspetta, aspetta. Stavo per dire, facciamo... Dividiamoci il cibo, stavo per dire... Ok, ma qua ci sono anche... Spacca il grano, spacca il grano, spacca, 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 spacca. Ah, troviamo i semi. Vai, vai, vai. Scusa, oddio. Ah, facciamo così che andiamo... Tu da una parte, io dall'altra. Però non c'è niente. Non ho trovato niente, ti ti rendi conto? Niente. Vieni qua. Tieni qua sto fiorellino. Come lo stai dando? Ok. Tipo lanciato di violenza. Vai. Uh, TNT, vedo, quello lì già mi preoccupa. Dove lo vedi la TNT? Dove ci sono i blocchi con più sui domande al punto esclamativo. C'è una facciata di TNT. Ah, c'è una facciata di TNT, non della TNT. Oh. No, 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 no. Sul limite mi sono fermato. No, no, ce l'ho morto. Ho perso un lingotto. No. Sì. Come? Sì. No, 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 perché? Perché ho gli strumenti? Ah, Keep Inventory. Perché c'è il Keep Inventory? Server World Saved. Sì, ha salvato il mondo. Eh, ma io ho gli strumenti, perché ho gli strumenti? Eh, c'è la Keep Inventory allora. Ma davvero? Ma che figata. Eh, forse abbiamo fatto bene. Ah, quando ho settato le game. Eh, mi sai che abbiamo fatto bene? Ok. Tug Life, vita criminale. Tug Life, bene. Qua c'è un cacchio di passaggio. Guarda qua, c'è un buco. Entriamo nei buchi. Qua c'è scritto? No. Non lo so. C'è scritto è un buco e c'è un oro. E c'è un oro. Sì, l'ho preso io. Va bene, prendi. Oh, oh, oh. Qui si scende, si scende. È un buco. Sì, ma dopo come risaliamo? Moriamo. Ci ammazziamo molto. Ah, è un buco. Sì, hanno ragione. Potrebbe essere morto come un coglione a aver riavviato Minecraft perché tipo era crashato al mondo. Mi seguirei come un muslender. Sì, ti ho anche superato. Vieni a vedere cosa ti ho trovato. Guarda, entra qua. Intanto che io crashavo, Squid ha trovato un passaggio segreto della Madonna con me. Un enchant in table. Ah, è. Ah, scusa, scusa, scusa. Un enchant in table. È un lingotto d'oro. Seguimi. Perché? Sì, va bene, va bene. E qua non c'è niente, sei sicuro? Eh, non l'ho chiuso. Eh, vabbè, scaveremo dopo. Intanto vieni che ho trovato altro oro. Altro oro. Altro oro. Altro oro. Siamo ricchi, cioè, praticamente. Qua dentro, nelle fornacce, ho trovato delle Blade Road così a casa. Infatti io me le prendo. Perché ci sono dei pistoni attivati qua? Che fanno da tavolini? Non lo so. Sì, le ho già prese tutte le unghie. Ah, ok, perfetto. Tipo, fa chi ha... Sono dei bastoni rossi, guarda. Sono dei bastoni rossi lunghi qua. Mamma mia, Luigi! Mamma mia, cosa sta dicendo? C'è una casettina da Hansel e Gretel sparsa in mezzo al nulla. Ecco. Pane! Ne prendo uno, io prendilo tu. Prendi io tu gli altri due, dai. Ah, dai. Te ne do uno perché ti ho mentito sul melone e me ne son tenuto uno in più io. Tieni. Questo proprio, in questo si capisce la vera... Cosa c'è? Ah, tu sei già sceso, proprio. Fuck yeah! Sono i nuovi ascensori della Dittas qui. Li potete prenotare subito se volete. Ok, al numero... E dopo il letto è in quella cosa viola, vedi? Lì c'è un'entrata, c'è un letto. Stavo morendo. Con una cesta, con del loro. Ecco, mi sono ricordato adesso che c'è del loro. E qua come ci salgo, però? Eh, si fa la strada lunga. Si fa la strada lunga. Fuck you! Fai il culo! Io metto i blocchi. Fuck, te pulisci. Fuck, te pulisci, non te blocchi. E anche perché non riesco a salirci. Non riesco a mettere blocchi. Ah, no, ok, adesso riesco. Forse perché era magari tipo lo spoon e non potevi. No, no, potevo. Potevo, sono coglione, io non ce la faccio. Oro mio. No, ho sbagliato, scusa. Ho cominciato a tornare una viola. Mi faccio il letto viola. Aspetta che guardo anch'io, aspetta che guardo anch'io. Fai. Loc of gold. Non l'ho visto io, però va bene, mi fido. Eh, perché non lo puoi vedere nella grafica. Ok, va bene. Vai, lo piazzo qua al centro. Bene, perfetto. Anche perché... Mi immagino se lo piazzavo a terra, in pratica è un luogo dove l'ho perso. Perché? Eh, perché il piccone di ferro dove l'ho perso. Ah, è vero. Oh mio Dio. Quindi dovremmo stare attenti, anche se va bene, noi una volta trovati, sì, ci basta. Ok, sì. Ok, quindi dove dobbiamo andare? Mi sa che forse siamo nella mezza. Then grab the enderpearls to begin your adventure. Ah! Eh. Ah, quindi tu stai dicendo che quelle enderpearls servivano? Eh, mi sa di sì. Ma sai che ti dico? Io haro la mappa. Andiamo su quella specie di uovo di Yoshi. Uovo di Yoshi, dov'è? Sì, lì, quello lì, bianco. Ah, oddio, è un uovo di Yoshi, davvero? Io ti seguo. Mi ha venuto in mente dopo. Ecco, utilizziamo la terra insieme senza fare due Yoshi. Sì, no, è da Spreconi. Sì, no. Io non ho mai capito il senso di dire sì, no. Cioè, lo dico anche io, però. Di dire che? Sì, no. Sì, no. È contraddittore. Sì, no. Sì, no, è da Spreconi. Sì, no, no. Hai finito? Vai, vai, mettite la terra. L'ho finita. Cioè, abbiamo già finito non so quanta terra per andare nella prima isola. Dopo però potremo andare anche in quella là, dove c'era la mushroom e prendere tutta quella terra buona. Per Sparta. Eh sì, ma tu fai tutto in Sparta. Oh, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Guarda nelle uova. Eh sì, uova, ti ho già spoilerato tutta. Oh mio Dio. No. Di villico. Ci sono i villageri. Sì, però va bene. Madonna. Dove li mettiamo? A quello serviva la casetta. No, ma non ho la porta, non può essere. Aspetta che ti faccio. Eh, adesso come... Aspetta, aspetta. Io c'ho... Fa chi è. No, ci succede. No, aspetta, aspetta, aspetta. No. Ciao. Ciao. Ok, va bene. Tanto io ho sponzettato nel letto. Eh, no, io no. Io ce l'ho spettato lì. Ma se io ti può... No. Cosa no? Aspetta, io ho compito. Cosa hai fatto? Sono caduto ancora. Ah, beh, no, beh. Perché credevo di lanciarmi nell'acqua, invece l'ho evitato. Ok. Allora, quindi... Direi, prendiamo un po' di terra, perché qui c'è un buco, tappa i buchi, sennò poi caderemo. Eh, è quello che dove sono caduto lì per sbaglio. Non l'avevo notato, guarda. Dove li mettiamo nei domani? Eh, bella domani. Allora, qua togliamo tutta questa terra e gli facciamo un recinto con questo. Ok, va bene. C'hai tu il cap. Perché sono fondamentali, più che altro, per il cibo. Più che altro non abbiamo le cose per accoppiare. Ah, va bene. Basta che ne lasciamo due. Sì, sono due. Perché le mucche, più che altro, i maiali e così via, non abbiamo le cose per... Ah, ok. Perché questa mappa ha solo un livello di terra? Dove c'è il caduto? Ma non lo so, ho spaccato un pezzo di terra e sono finito dal buco. Dove sei? Cioè, è proprio una mania per questi buchi adesso, sto tornando. Sto tornando. Sai che avevo settato lo spum dall'altra parte, dove l'ho tolta questa terra? Lui tornerà, prima o poi. Adesso scommetti che ci calocco. Ok, ti ho fatto una piccola salita da qua. Ecco. Così puoi ammirare i polli. Mario e Luigi. Mamma mia, ragazzi, questo episodio finisce qua per oggi. Mamma mia, pizzeria. Io ringrazio Squid00 per la partecipazione. Cosa stai facendo? Grazie a te per la partecipazione di questo video e in questa nuova serie. Ok, il prossimo episodio lo trovate sul canale di Squid00. Intanto lui si sta fottendo le cellte con le chest. Bene. Quindi, se vi è il dolcetto lasciate un commento. Mettevi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo sul canale di Squid00 per il prossimo episodio. Quindi, bella ragazzi, saluta. Ciao a te. Guardate Hotaurus sullo sfondo, non ho più mega. Hotaurus adesso, se lo premo. Ok, capito. Capito, non lo vuoi fare più perché dice... Ah, non funziona.